Ciao a tutti amici del fai da te, io sono Mauro e questo è Zio Orso, il canale per i makers. In questo video continuerò la riorganizzazione del mio laboratorio. Questo non era il video che avevo in mente di fare questa settimana, però entrando in laboratorio ho visto il mucchio di morsetti che avevo qui a fianco al mio banco di lavoro e come mi ha suggerito giustamente Silvio B. nei commenti sotto lo scorso video, ho pensato che era il caso di fare un supporto dove riporli. Come vedete i vostri commenti e le vostre considerazioni sono sempre utili e io le tengo in seria considerazione, quindi continuate a commentare e a condividere il video. Il pollice all'in su fa sempre piacere, il pollice all'in giù ci sta, ma se lo clicchi mi raccomando fammi sapere nei commenti come migliorare. Seguimi sui social, Instagram, Facebook, se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle novità del canale e su quello che faccio io qui in lab. C'è la possibilità per chi lo vuole di supportare il canale. Uno di questi modi è quello di offrirmi un caffè tramite Paypal. Trovate tutte le istruzioni sotto in descrizione. Se poi dovete fare degli acquisti su Amazon, potete farlo passando per il mio link. In questo modo il prezzo dei vostri acquisti non varierà, però il canale otterrà un piccolo riconoscimento grazie a voi. Adesso vi lascio al video. Buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!